Beniamo al video del Consiglio del Pubblicitario adesso nel studio della televisione una bella televisione, da parlare sempre su telegiornali di ogni dia su Gisustidi Mosa Prato con tutti gli stritti a mano ecco ma andiamo a fare un altro cantico sinceramente vedendo tanto mi pare che voglio dire Mutto il D'Amore, il seminario Mutto il D'Amore, alle che la coro via! il D'Amore e su secondo canale la daina augurata la gatterina valente e su secondo canale del suo innamorato De gusta brava gente che è il meda ospitale La daina augurato, che è il meda ospitale De gusta brava gente, ne so innamorato Ne gatterina valente, ne so innamorato Che è il meda ospitale, de gusta brava gente Barbaggia e baronia, gattura e campinano Logo d'oro e angona Barbaggia e baronia Condura e strinta e manua I gustatente ora salurare la gheria Gattura e campinano Salurare la gheria I gustatente ora Condura e strinta e manua Logo d'oro e angona Condura e strinta e manua Salurare la gheria I gustatente ora Salurare la gheria E un'oga per l'uno Compera d'una guida L'uvo, la santa e rosa E un'oga per l'uno Cantù duro in vida No bramo a terra goza Che isa amore duro E un'oga per l'una guida Che isa amore duro No bramo a terra goza Cantù duro in vida Nel'uvo, la santa rosa Cantù duro in vida Che isa amore duro E un'oga per l'una guida No bramo a terra goza E da il tre oristano Sola sape maria Si intendere in san vero Da in tre oristano Cara golumba mia Si intendere in san vero E un'oga per l'una guida Che isa amore duro E un'oga per l'una guida Che isa amore duro Si intendere in san vero Cara golumba mia E un'oga per l'una guida E un'oga per l'una guida E un'oga per l'una guida Che isa amore duro E un'oga per l'una guida 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 Belleza singolare, insumundo appamato, tu e se e se calamina. Belleza singolare, totumenda e furado, animacolo e pina, solo prodi mirare. insumundo appamato, solo prodi mirare, animacolo e pina, totumenda e furado, solo prodi mirare. e anima tono e pirat anina e coro e pirat non prendo niente bravissimi una cosa bella sinceramente ma ti sai scusare sono gitterrista bravissimo se ne è truncata la sapunetta come la deve cambiare caprite i bigliere tanto che la cambiate però mentre che scambiate la sapunetta passate in terra che vai a piegare la gioia veramente caprite e chiamiamo a fare un altro cantico se è possibile abbiamo fatto questo cantico pure che bigliere sempre molto d'amore vuoi a fare scorseccata è una cosa che in termine di andare dai nanti sinceramente in questo momento si è truncata la sapunetta e speriamo che una volta da posto subito va a entrare una telefonata e intendiamo chieste pronto? pronto? non mi conoscavi non fa male eh? non fa male Mario 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 benvenuto Mario eh eh come ti stasso? eh non c'è male è tuo eh ehi che ha da pronuncio che ha da pronuncio Mario? che ha dei suoi denti mi compreso ah dunque eh sono contento di questa serata che si fa attende eh beh voi voi gli schietti ti ha fatto dire questa vista è il tebrioso è il gai con questo soffanetto eh beh con questa fisiamorica metta di sempre e metta metta con questo zofano con questo giubbottoneggio eh tutto tutto bravo su ma vorrebbe essere Leonardo Spina eh pesati saluta buonasera come ti stiamo su? eh sono contento che che cresci tu metta eh 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 e me la più bravo ancora e poi canta di sicuro grazie e poi su complimentos esatto la seconda notte di noi questa è da manco mele eh va bene saluta buonasera comunque me la brioso e fantasioso eh beh certo mi sento tanto ho inteso Mario su capo nato però cosa che ha fatto il batto libero ma le grazie a di Dio sì 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 ah proprio inteso come te non eh vabbè a Bortasa ma presentamolo no poi fuori pure a Bortasa che donare devi dare mandare la poesia Santoro Antoni eh a Ittili vedendo tanto sinceramente di mandare la poesia ti ha dato tempo fino a eh a Subini di aprile e oh scusa perché il ballerni ha fatto una gaffa che non ho finito più su Marto per fare questa poesia su 29 di aprile benissimo benissimo e ne devi fare il tuo sempre la paghiamo su ne leggete il tuo ascoltare se non ho una però si è distrutto premiato su manno su e minore su eh ma chi è che eh a Usini eh ecco e se vivi proprio un alunno eh compreso eh è stata contenta di lui eh è fatta l'ha fatto piagheri ma che è piagheri pure a mia eh sa basta tu a vimmile eh io c'è un professore però ah è una boetta eh sì bene bene ma che piagheri eh beh certo comunque non stavamo sentendo noi eh compreso ma sì sì eh carissimo eh andiamo a dare l'ante essenzialmente vedendo tanto se è strutturata la bonella eh ti ringrazio carissimo ciao saluto a tutti e complimentosi eh grazie a te carissimo grazie ciao carissimo ciao bene questo è un poetta questo è un poetta questo è un poetta e mi vuoi piagare sempre scusate per la pena che non andrà bene che abbiamo sul consiglio su pubblicitario allegro lavoro grazie a tutti